Provolone del Monaco DOP Buono, tipico, originale Ottenuto dalla lavorazione del latte prodotto da bovini allevati nei comuni di Agerola Casola di Napoli, Castellamare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Rubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria la Carità, Sorrento e Vico e Quense Il Provolone del Monaco DOP è solo quello con il marchio fuoco su ogni faccia e l'etichetta con il logo della DOP Provolone del Monaco DOP, diffidate dalle imitazioni